Facciamo una piccola sezione di quelle che sono le qualità vocali principali e perché studiarle. Perché bisogna studiarle? Vanno studiate quando effettivamente sentite che non riuscite a raggiungere una vocalità che vi piace, che è quello che volete ottenere a livello artistico, a livello emozionale, a livello interpretativo. C'è qualcosa che magari nella voce non funziona come voi ve lo siete immaginati. Quindi perché è importante sapere che cos'è una voce di petto e come ci si collega alla voce più alta del registro della nostra voce? Perché studiare il mix? Perché studiare il belting? Perché affrontare un discorso di voci distorte? Tutti questi tipi di argomenti ci servono per non sicuramente farci male, ma anche per un appagamento proprio personale quando ci mettiamo proprio davanti al microfono e dobbiamo cantare una canzone. Uno degli argomenti che affronteremo il 27 sarà appunto il mix, che è una cosa importantissima per la salute vocale. Quindi andremo a studiare quelli che sono i passaggi che ci portano a legare, a tenere uniforme la voce, dalla voce di petto fino alle note più acute, senza dover andare a ricorrere al falsetto dove la voce si stacca, oppure a dover urlare per ottenere una voce comunque legata alla voce di petto. C'è un modo più salutare di raggiungere questo tipo di posizione che è appunto il mix. Diciamo che sarà uno dei punti cardine della discussione che affronteremo il 27 nel webinar. Facciamo un piccolo rassunto di quelle che sono le qualità principali vocali. Questo diciamo che è un po' il riassunto delle qualità vocali. Quindi abbiamo M1, mix, belting, suoni distorti, falsetto, massa leggera.